Avevano occupato abusivamente una delle villette di Contrada San Marco. Per questo motivo adesso tre persone, due di nazionalità rumena e un saccenze, dovranno rispondere al reato di violazione di domicilio. A denunciarle è stata la stessa proprietaria dell'immobile, una 26enne saccenze, che aveva raggiunto la villetta, normalmente abitata nel periodo estivo, per trascorrervi le giornate di vacanza di Pasqua e che con inevitabile sorpresa si accorta che la sua abitazione non era vuota. Stando a quanto si apprende, tre occupanti erano entrati dentro l'edificio dopo aver rotto una finestra, introducendosi così all'interno della villetta. Non è noto se si fossero stabiliti o meno dentro oppure se si fossero introdotti, con l'intenzione di uno stanziamento temporaneo. In ogni caso sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca, a cui la proprietaria si è rivolta sporgendo regolare denuncia. I tre occupanti abusivi dell'immobile, dopo l'identificazione effettuata dagli agenti, si sono allontanati dall'abitazione, un episodio che sta facendo discutere soprattutto per il fatto che una proprietà privata è stata violata come se si trattasse di una cosa normale.